Buongiorno e buonasera e buon ascolto. Benvenuti ad All'ora di Amadeus. Questo è un podcast. Scaricatelo, ascoltatelo anche quando andate per strada e riempitevi la vita. Ora ascolto. Amiche e amici amadeusiani, amadeusiani all'ascolto, buongiorno, buonasera. Dipende dalla latitudine e dalla longitudine in cui vi trovate. Mi raccomando, mettete like su 1, 2, 3 stream, iscrivetevi ai nostri canali All'ora di Amadeus, Il Salto della Morghi e Quelli che eroi. Oggi parleremo di poesia, amore e anarchia con Alessio Lega. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Sì, dipende un po' quando ci vedo. Senti, hai visto un treno nella sigla? Sì. Che cosa ti ispira a un treno? Il treno insieme ai gatti è uno dei protagonisti essenziali della canzone d'autore. Cosa ispira a me? Più che altro cosa è ispirato in giro a tutti. Innanzitutto resta la metafora del viaggio, però anche l'elemento del binario. Per quanto riguarda la mia vita è esplicitamente quasi tutto. Io direi ciò che non è il treno è la bicicletta. Io non ho la patente di guida, ma faccio una vita per cui sono continuamente in movimento. Quindi il treno, io sostengo in genere che sono nato a Lecce e risiedo a Milano, la mia residenza è a Milano, ma in realtà la mia casa è sui treni. La tua casa è sui treni. E scrivi sui treni? E se no dove? E se no dove? Talia come sei lunga, diceva Giovanna Marini già nel 1970, 72, 73. Sì, quegli anni lì. Sì, sì. Ho un iPad, una tastierina che occupa pochi centimetri, molto sottile. E dunque con quello e sui treni ho fatto, ho scritto o più che altro ho rivisto interi libri. Hai rivisto interi libri. Senti, chi è se c'è una risposta davvero a Lecce Liga? Che è la domanda più stupida possibile e immaginabile e forse anche la più difficile. Ma sai, non so, forse non proprio tutto, ma molto di come si vuole apparire agli altri sta in chi fa il mio mestiere e nelle sue opere. Quindi è qualcosa che è leggibile sulla pagina, che è ascoltabile nei dischi, diventa visibile sui palchi, per il resto come credo succeda a molti di noi che per mestiere sono impudichi o esibizionisti, poi nella vita reale, come si dice, nella vita per i più prossimi, un po' ci spegniamo, credo. Per troppa abitudine ad apparire in altri luoghi, in quella situazione lì un po' ci spegniamo. Io, per quel che mi riguarda, sono nato in una città bella, ma piccolina, che si chiama Lecce e poi a 18 anni sono andato a Milano e allora, per dire, quando transito da qualche altra città, da qualche altro posto mi dicono che luogo privo di cuore, che luogo… e io invece dico che a Milano ci sto particolarmente bene proprio perché è una città che ti consente di spegnere, di non essere quasi nessuno, di non avere l'assillo, di dover salutare un sacco di gente quando esci per strada, che sembrerebbe contraddittorio in uno che invece vuole che il suo grugno in qualche modo sia noto e invece è un… in questo senso la metropoli in qualche misura mi somiglia. Forse questo racconta qualcosa di me, non lo so. Senti, per te che cos'è la poesia? Direi che mi sono scelto spesso di riferirmi a parole molto amate ma molto malintese. Una di queste è senz'altro la parola anarchia. Poesia è un'altra di queste parole perché ha almeno due accezioni fondamentali. Una che forse sarebbe più propriamente la poetica. Cioè poeta può essere Fellini nei suoi film, poeta può essere Gadda, poeta può essere, intendo dire, poeta può essere Van Gogh, può essere Casorati, poeta evidentemente può essere un autore di canzoni, può essere De Andrè, può essere Guccini. Intendo dire che vi è la poesia come una maniera di interpretare il mondo e di ridurlo appunto a una poetica, di ridurlo o di ampliarlo a una poetica, di avere una propria chiave in questo senso qui, non necessariamente nella forma letteraria che chiamiamo poesia. E poi poesia è qualcosa di molto più preciso. poesia è proprio una forma di letteratura che in cui si va a capo più spesso prima di quando finisca il rigo. Sì, sì. Senti, e che poeti ami? Sono, credo, uno dei non tantissimi lettori di poesia. Quindi leggo, boh, 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 la mia casa è sostanzialmente la mia piccola casa milanese perché le condizioni milanesi raramente consentono, se non si è molto molto ricchi, di avere una casa grande. La mia piccola casa tra bocca letteralmente di carta. E proprio ce n'è veramente, non dico il triplo, il quadruplo di quello che potrebbe stare in questo spazio. Letteralmente navigo nella carta. Molta di questa carta è imbrattata diversi, molto più del solito. Eppure prendiamo quei luoghi di resistenza culturale, di passioni che sono le librerie, dove però lo scaffale della poesia spesso mischiato a quello del teatro è uno scaffaletto. Piccolo piccolo. Esatto, piccolo piccolo, perché si sa, la poesia non vende. Dico, anche per, pur anco nel regno dei libri la poesia non vende. E invece a casa mia, in questo senso qui, è in controtendenza perché la poesia occupa uno spazio molto grande. E' come risponderti quali sono i libri della tua vita, quali sono i film della tua vita. Ti posso rispondere ora e fra dieci anni è diverso. Ma anche fra dieci minuti posso essere diverso. Però che dirti, amo moltissimo la poesia del novecento, sono abbastanza banale, credo che se mi riferissi ai nostri classici, non voglio essere troppo scolastico, ma direi che Dante e Leopardi restano i punti di riferimento. Ma poi anche se fossi scolastico che male ci sarebbe? No, 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 per carità, per carità. Anche perché sono due autori talmente tanto insegnati che in qualche modo vanno riscoperti. Bisogna farci la pace e riappropriarsi in un secondo momento. Poi, per essere un po' meno scontato, direi che l'esperienza della poesia russa della prima metà del Novecento mi sembra una delle esperienze più alte in assoluto. Io sono anche molto legato all'idea dell'arte in genere, della poesia in particolare, che non lascia dormire sonni tranquilli a nessuno, ma che soprattutto non lascia dormire sonni tranquilli al potere. Allora, per una serie di strane, per un sacco di elementi, essere poeti in Russia è più che essere poeti. Nel senso che la poesia è sempre stata molto familiare. Cioè, chi ama leggere in Russia ama la poesia almeno quanto la prosa. Ecco, questo è in controtendenza a quel mondo che dicevo. In Russia, o nei paesi slavi in generale, nelle librerie la poesia occupa uno scaffale altrettanto vasto che la prosa, che i romanzi. forse la poesia, in realtà, il posto dove vendere in meno è proprio l'Italia, credo. Questo non te lo so dire. Guarda, frequento la Francia, non mi sembra che lì nemmeno si brilli chissà quanto rispetto all'Italia. In un contesto in cui comunque le librerie sono vendono di più e i libri se ne vendono di più. Per quello che ho visto, benché non conosca la lingua, nemmeno la Germania, no, direi che guarda sostanzialmente la tendenza, ora, non so essere preciso. Mentre in Italia posso essere abbastanza preciso perché sono di una famiglia di librai. Mia sorella ha appena aperto una nuova libreria a Milano. è una coraggiosa in questo senso. Abbiamo un po' il polso della situazione nei limiti in cui puoi avere il polso da un tuo molto preciso luogo. Che ti dicevo? Invece in Russia c'è questa cosa qui. Stai in Russia, qualsiasi cosa si scrive, è un verso in particolar modo, in Russia il meccanismo del potere non ha mai permesso di conviverci senza darsi fastidio. In Russia il potere è sempre stato onnipresente, pervasivo. Scrivere un verso o non scriverlo ha spesso, ma potremmo dire sempre, significato la differenza fra una vita comoda e una vita scomoda, se non proprio fra la vita e la morte. E in quelle condizioni lì, scrivi quando veramente hai l'esigenza di farlo. Per molti poeti... Non sprechi le parole. No, no, no. Tu pensa a Mandestam, uno dei più alti, delle più alte esperienze poetiche del novecento russo, a parte essere letteralmente morto, ma è stato mandato a morte, a morire per una sua poesia contro Stalin, ovviamente. Ma la sua compagna, la straordinaria Nedesda, per preservare le poesie, sapendo che sarebbero potute scomparire queste poesie essenziali, come era scomparso, come era stato inghiottito dal sistema del gulag suo marito, aveva suddiviso le poesie e ne aveva fatto imparare vari gruppi agli amici più intimi. Cioè, insomma, le aveva asservate nella biblioteca da cui non si possa strappare via, nemmeno con la... Senti, invece, scrivere il testo di una canzone, che tipo di lavoro è? Che non è lo stesso lavoro? Uso dire... Anche se io scrivo in metrica, è poesia. Io mi sono... Sì, non è precisamente nemmeno quello, benché ovviamente siano apparentati per molti versi. Ma diciamo che usiamo uno strumento che coincide per molti versi, potremmo dire, fuori e dentro metafora. Io ho sempre sostenuto che poi, per quanto riguarda il Novecento in particolare, questo diventa ancora più vero, che il poeta, inteso come il poeta della letteratura, quello che non si pone il problema della versione... Il poeta non orale, chiamiamolo così. Però è il poeta scritto. Eh, il poeta scritto si permette spesso di inventare non solo il proprio linguaggio e le proprie storie, ma anche il proprio alfabeto. Non è un obbligo, ma insomma lo fa sovente. Il poeta orale, che scriva versi perché si recitino o perché si cantino, usa un alfabeto che esiste già per raccontare delle storie. Per cui noi, ovviamente accettando le regole di un determinato gioco. In questo caso la regola del gioco della canzone è che più o meno deve essere, non dico rimato, ma insomma degli elementi di ricorrenza sonora sono utili. Ti permettono di navigare meglio sul fiume, di farsi portare meglio dal fiume della musica, di far portare meglio le parole. E appunto si deve ovviamente tener conto di questo, che tu scriva appunto su una musica già data, che tu scriva con l'idea di una musica, ma poi la parola è già di per sé musica, è già di per sé un fatto musicale. Ecco perché quella domanda così spontanea, naturale, però è una domanda che non ha mai una risposta fissa. Scrive prima la musica o prima il testo. No, non te l'ho chiesta infatti. No, no, ma per carità. Alla sua maniera però è una domanda che nella sua ingenuità pone un tema che esiste. E allora pur se tu non me l'hai fatta ti rispondo lo stesso. Forse scrivi una melodia che può essere sonora o di parole, e poi vanno a combaciare le cose. Ma per quanto mi riguarda esiste la melodia come una sorta di un'idea melodica che non è ancora una melodia sviluppata, che funziona come un amo gettato nel mare delle parole per l'appunto. Questa melodia attrae a sé delle parole, suggerisce un percorso, una storia. E poi però è tutta una questione di ritmo, più che di melodia. Entri in un ritmo e la storia prende il suo ritmo, e poi si fa un lungo lavoro per cuscire e tenere assieme queste parti. Perché pure non bisogna avere un'idea troppo romantica del poeta che scrive sull'estatura delle stelle. Il poeta che scriva per essere letto, che scriva per essere cantato, è comunque un artigiano, un lavoratore, un ebbanista che sta a limare molto attentamente le sue opere. Quindi esiste l'ispirazione o è un'invenzione delle favole? Esistono delle giornate in cui ti svegli e le cose ti richiedono molto meno tempo. Sì, esiste l'ispirazione. L'ispirazione è un bengala nel buio. Per dire, l'ispirazione mi diventa più esplicita. Io ho un lavoro che faccio spesso perché mi piace e perché lo trovo un esercizio straordinario, è quello di adattare in maniera cantabile delle canzoni stranieri. In particolare, la lingua che veramente conosco è il francese. Anche la canzone francese mi è sempre stata molto di ispirazione. Per francese intendo francofona, che poi la francofonia si estende molto al di là dei confini geografici e politici della Francia. Però ho adattato in italiano anche canzoni catalane, castigliane e ho adattato, che sono comunque lingue in qualche modo che imparentate con la nostra, ma ho adattato anche delle canzoni russe e non conosco il russo, a parte so chiedere un tè verde, poco più in russo. Però ho lavorato insieme a slavisti, anche molto bravi, oppure ho lavorato con delle traduzioni intermedie, cioè delle traduzioni spesso in francese, non proprio in italiano. Insomma, comunque delle traduzioni parola per parola che mi dicevano cose. E poi avevo ovviamente la canzone cantata in originale, che ti guida molto bene su quali sono le intenzioni anche dell'interpretazione. Se noi leggiamo un testo poetico, in questo senso qui, non sappiamo se un verso intende essere più ironico, più soffuso, più nostalgico. Invece, sentendolo cantare dall'autore, questa cosa la capiamo, quindi abbiamo un linguaggio in più che ci guida sulle sue intenzioni. Ecco, per dire, quella roba lì che sembra un lavoro quanto mai tecnico e quanto mai difficile, perché siamo legati a un binario per ritornare ai treni, siamo su un treno che ha un binario molto stretto e molto preciso, cioè bene o male, devi stare in una metrica che è stata determinata e determinata in una lingua che non è la tua, devi provare a ripercorrere meccanismi di ricorrenza come le rime interne o no che siano, che sono fatte in una lingua che magari ha molte più tronche della tua. Quindi ci sono proprio dei problemi tecnici forti da superare, eppure, proprio in quel caso lì, ho sentito l'influenza dell'ispirazione. Per anni e anni cercavo il primo verso, come si può dire questa cosa che Brassenza ha detto così bene in un'altra lingua, come si può dire quasi la stessa cosa nella nostra lingua, e dopo anni e anni che quella canzone la conoscevo, l'amavo, pam, ti viene quel verso, ti viene la musica di quelle parole. E poi in genere quando ti viene il primo verso ti viene anche tutto il resto. È vero. Quella la possiamo chiamare. Idea, idea. Non la sia giusta, ma secondo me la si può un po' chiamare ispirazione. Senti, due domande. Una in parte è già toccata, parlando di ambiguità lessicale, l'altra è la più ambigua del mondo. Che cos'è l'amore, Alessio? Perché era ambigua. Apodittica. Apodittica. E sta alla vita come la poesia sta alla letteratura. Quindi ha quel tanto di musica e di ispirazione che la prosa spesso non si possono permettere. Diciamo. Poi no, vabbè, ti do una risposta meno... Questa è una risposta buona per tentare l'approccio con una ragazza interessata. Sì, appunto. Con una ragazza in libreria, ecco. Con una ragazza in libreria, sì. O in un negozio di dischi, ammesso che ne esista ancora, in un reparto di musica classica. Sì, sì. No, diciamo che... Per dire, una cosa che mi diverto spesso a dire è che esistono solo... Io mi occupo di molte... Faccio... Benché sia un cantante che ha cantato sovente l'amore, ma insomma ha cantato i cazzi suoi, diciamola così. Però, siccome mi occupo anche di temi sociali, e questo non lo fa quasi più nessuno, spesso mi chiamano cantautore anarchico, mi chiamano... Perché non nascondo le mie idee, il mio modo di vedere il mondo. Io mi sento un po'... Semmai penso di essere un anarchico che fa il cantautore, non un cantautore anarchico, perché non so che cosa sia una poesia o una canzone anarchica, perché la poesia e la canzone rispettano regole anche molto definite. Semmai sono un anarchico, uno che ha certe idee, un certo modo di vedere la vita, e questa cosa qui ovviamente entra anche in ciò che canto, nelle storie che scelgo di raccontare. Poi prima o poi magari ci soffermiamo anche su quest'idea delle storie, perché lo... Sì, sì, ma... Ma... Era prevista fra le domande. Va bene. E in questo senso qui spesso dico che le canzoni sono solo d'amore, che le canzoni per una sola persona le chiamiamo canzoni d'amore, e le canzoni d'amore per tutta l'umanità le chiamiamo canzoni politiche. Sì, il mio buon vecchio amico, buonanima di Gigi Piccetti, diceva che tu avrai conosciuto... E come si andava a frequentare certi brutti ambienti a Genova, senza... Sì, diceva che le più grandi canzoni d'amore sono canzoni sociali, lo diceva sulle poesie veramente, e le più grandi poesie d'amore sono poesie sociali, e le più grandi poesie sociali sono poesie d'amore. E non era torto. Proprio esattamente così. Semplicemente ogni... Per dirla proprio terra a terra, bisogna crederci. E come fai a crederci in qualcosa senza impegnare il tuo sentimento. E quella roba lì è una questione di fede. Te lo dice un ateo. Ma è fede in qualcosa... Quanto meno nella... In una... Ecco, per la storia. Per scriverla bisogna avere fede nella storia. Nella storia... Allora, io avevo... No, non nella storia e la materia che insegno. In una storia. Sono nato nel 1972, dunque ho... Sei più giovane di me. Vabbè, questo può capitare. Ho comunque superato, per quanto da poco, il mezzo secolo, che noi ci diamo come termine massimo, nel senso che già arrivare a un secolo di vita, insomma, uno non può proprio chiedere niente di più dalla propria salute. Quindi, diciamo, un amico mi diceva eh, fino a 50 anni uno può sperare di raddoppiarli. Poi no. Beh, non so. Ma non lo ho detto. No, quello qualcosa vorrà pur dire come termine. Arrivato a 50 anni sai che non potrai mai leggere tutti i libri che hai comprato. Mettiamola così. E appunto, è vero, cioè, io appunto, per ragioni biografiche, mi sono ancora confrontato con l'idea della storia con la S maiuscola. Come se noi potessimo avere l'ambizione di raccontare la storia con la S maiuscola. E come se questa cosa qui potesse, cioè il modo di raccontarla, di interpretarla, potesse contribuire addirittura a mutarla, a cambiarla, nel senso che noi riterremmo più umano, più possibile, più come un atto d'amore. Poi col tempo, diciamo, ho dovuto rinunciare a questa idea della storia con la S maiuscola, mai rinunciare del tutto per la verità. E ho capito che se si vuole convincere le persone, non bisogna tanto raccontargli la storia, perché subito diventano diffidenti, non è più la loro storia, ma bisogna provare a raccontargli le storie, questa volta con la S minuscola, poi le storie singole a volte hanno dei riflessi collettivi. E quindi, forse, quello è il nostro modo di entrare nella storia con la S maiuscola. Provare a fare collezioni di storie con la S minuscola. Perché, sai, la storia con la S maiuscola, quelli che la pensano come me, ogni tanto, proprio dopo mille sforzi, apprezzo di sangue, fatica e tormenti, sono riusciti a sfondare il portone della storia. Ma dopo cinque minuti ci hanno cacciato a pedate le S maiuscola. E quello che ci restano, invece, sono le storie. Le storie attraverso le quali noi riscopriamo la solidarietà, l'essere utile l'uno all'altro, la sofferenza, ma anche le piccole soddisfazioni, che poi sono anche grandi. E quindi attraverso le storie noi possiamo provare a contribuire ad avere una storia meno infame. Ed ecco che allora ho smesso di definirmi quando cantautore, che tutto sommato è un'etichetta, non voglio offenderti, visto che sei di Genova e quindi con i cantautori, quella c'è lì ha particolarmente a che fare, però in qualche misura l'etichetta è un cantautore, era un tentativo di vendere degli artisti che facevano canzoni particolarmente di qualità. Però alla fine, come tutte le etichette, si rivela essere vuote e contraddittorie, perché ti racconta poco di quello che uno veramente fa. Ti racconta, cioè, più che puntarsi sulla canzone, punta su chi la fa. A me interessano più le canzoni che chi le fa. Ecco, in questo senso qui, a un certo punto, mi sono riconosciuto in un termine, nello stesso tempo, più antico, ma che sembrerebbe più superato, che è il cantastorie. Però è un bel termine. Diamina. È un bel termine. Racconta qualcosa di più preciso di ciò che uno tenta di fare, poi. Ma vedi, a me è capitato, ti racconto questa storia, questa mia storia. a me è capitato di correggere un pacco di temi. Normalmente uno si dispera, invece questa volta no. Erano bei temi. Con 23 storie di 23 ragazzi. Ed erano... E io credo che queste storie si... non lo faccio perché violerei la loro... il loro privato, ma queste storie bisognerebbe leggere ad alta voce, perché sono le storie. E invece poi mi ritrovo in un'altra classe, non c'entra niente, a spiegare storie con la S maiuscola, spiego la guerra dei cent'anni, i massimi sistemi che però poi entrano o non entrano. Non so se... sono riuscito a spiegarmi. Mi è molto chiaro. Guarda, sono anni e anni che mi dibatto con una parola, una minuscola particella linguistica che era il termine noi. Quando ero più piccolo non vedevo l'ora di sentirmi un noi. La prima volta che un compagno mi disse noi anarchici mi sentì promosso nell'insieme delle persone che volevano cambiare il mondo e che per certi versi tanto ammiravo. E quindi un po' questa parola mi emozionava fortemente. E l'ultima volta che l'ho sentita veramente appartenermi e significare qualcosa di importante è stato proprio a Genova ed era nel luglio del 2001 durante una pagina tragica. Pagina che conosciamo. Esatto, per certi versi anche esaltante. Da quel momento lì mi sembra che quando invece si dice noi la gente è venuta dopo la mia generazione quando gli dici noi pensa dov'è la fregatura? cioè noi io non sono noi non sono più io è sempre quella riflessione lì che mi ha portato all'idea di usare il noi meno possibile e di provare a usare il tu nel senso o sfuggire alla trappola dell'io che è pericolosissima però provare a usare due palle così è veramente una prigione l'io e provare a usare il tu provare a usare il lui cioè provare con onestà a raccontarti delle storie la mia o quella di qualcun altro per farti vedere che in fondo poi magari tu hai degli stessi hai poi gli stessi problemi con cui mi sono confrontato io e quindi chissà possiamo anche trovare provare una volta resoci conto che siamo io e tu trovare delle soluzioni collettive senti ho ancora un'ultima domanda da farti proviamo a scrivere una canzone insieme questa è una domanda difficilissima credo a molti di quelli che fanno il mio mestiere ce ne tanti appunto nella tua città tutto sommato benché sia una città in cui si suona davvero pochissimo cioè veramente complicata e a quelli che fanno questo mio mestiere sovente capita che poeti bravi meno bravi eccetera gli propongano i loro testi io dicendo ma magari mi piacerebbe sentire come funziona cantato come funziona e io da una parte la mia curiosità insaziabile dice sempre sì mandami fammi vedere però metto non so quanto vigliacamente le mani avanti dicendo se riuscissi a mettere in musica le parole che mi piacciono non avrei mai scritto un testo io mi sarei dato a lavorare ora non voglio dire su Leopardi perché Leopardi magari ha un verso particolarmente sciolto e particolarmente però ci sono tanti poeti nel novecento Alfonso Gatto ci sono molti poeti che ancora usano le forme chiuse i metri adatti a essere musicati c'è tutta una corrente che magari non è quella che ha vinto però voglio dire da Gozzano in giù per esempio ora sto là per una serie di cose di strani meccanismi della vita sto lavorando su un poeta che avevo sempre snobbato anche un po' così con la puzza sotto il nase che è Giovanni Pascoli mi è capitato di fare dei lavori di essere chiamato proprio da un'associazione che gestisce Casa Pascoli quindi in Romagna le parti Rimini Cesena e questa cosa mi aveva appunto interrogato e al di là di tutti i motivi tecnici linguistici e anche caratteriali che ci fanno sentire Leopardi come lontano da noi dalla nostra sensibilità invece ho trovato tante inquietudini anche politiche sì Pascoli era un socialista che si era fatto anche della galera poi diciamo non era un cuor di leone quindi quell'esperienza lo fece ritrarre ma che in fondo in cuor suo ha sempre mantenuto e che poi era un inquieto e che poi era un alcolista e morto in rossi epatica probabilmente e quindi ci aveva tante inquietudini novecentesche in una forma ancora che noi sentiamo lontana però è proprio questa contraddizione che lo rende molto musicale e per certi versi un uomo moderno in una pelle antica con questo scusa non volevo andare troppo lontano volevo dire boh boh cioè nel senso proviamoci purché nessuno si offenda se io non ci riesco va bene va bene noi Alessiuccio come scrivi te ti ringraziamo sei stato cortese e squisito e che dire alla prossima occasione alla prossima e fammi sono a questo punto sinceramente curioso di conoscere cosa scrivi e cosa pensi potrebbe essere cantato di ciò che scrivi ciao buonasera buongiorno avete ascoltato un podcast di Allora di Amadeus alla prossima occasione a buongiorno a buongiorno Grazie a tutti.